Dobbiamo riempire la bottiglia dell'acqua Sistema lo Sianus Travasamento dal boccione al bicchiere E dal bicchiere alla bottiglia Come si dice l'acqua di un metro zero Vedi? Si risparmia la plastica perché è una bottiglia di dura Eh ma Ci vuole solo un po' di tempo ma qua il tempo non è un problema Basta 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 esagerato Molto di vivere perché sennò dove te la metti quest'acqua Fatto? Si è un ragazzo educato Federico il sudduttore di bottiglia Federico pure il riempitore di bottiglia puoi fare Mi sembra un buon lavoro Com'è l'acqua alla fonte? Puoi vedere la... Altissima, buonissima Ma fuori più basso? No grazie Ho solo l'acqua altissima Acqua altissima Yeah No grazie No grazie No grazie No grazie No grazie